Il gruppo canale Polesne contro il canale di San Dordo, il torneo regionale del Veneto. Cominciamo subito con le presentazioni, ossia quando è un atleta ormai di fama nazionale e internazionale, al commento tecnico Davide Pescuoli. Ciao Davide, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. 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 Io credo che la chiave sia nella convocazione degli atleti. Buongiorno. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.